Eh ragazzi, qui mi sa che bisogna un po' ridimensionare gli obiettivi perché sta sempre andando peggio, squadra che gira poco, le avversarie che comunque fanno discretamente ma in questa giornata è andata male, 66 per 2 a 1, pubblicità ma porca puttana che palle o comunque per 2 a 1 e male ragazzi male Ma vabbè, comunque diciamo che non sta andando benissimo, non sta andando per niente bene ma questa giornata pure è arrivata una sconfitta abbastanza pesante, andiamo un po' a vedere nello specifico i voti Lui è arrivato comunque a un discreto 75, comunque onesto, nulla di particolare, nel senso non è che ha fatto cose straordinarie 5 Magnon che comunque ha fatto un partitone ma ha preso 2 gol nel finale contro l'Atalanta Romagnoni non li ha giocato, è stato Augello 5 e mezzo Ternandez 8 con l'assist, Ikei 10 gli fa gol Brahim Diaz 5 e mezzo a Monito Tonali gli ha fatto gol, ha fatto un partitone 11, padre che poi gli hanno fatto gol, cioè ma come faccio? Ma io veramente ho preso gol da un mediano e da un terzino, ma veramente, vabbè Perisic che comunque gli ha fatto l'assist e gli ha preso 7 ma con l'ammunizione Nandez ha ammunizione 6, Rebic 6 e mezzo, non ha fatto niente Simi 5 e mezzo e Shomuro dove non gli ha giocato è andato a Morici 5 Quindi 75 come dicevo, onesto comunque per lui Io 66 preciso preciso Silvestri malissimo, anche questa giornata ha steccato la scelta del portiere Ma ha preso 2 e mezzo Non che se avessi messo Cagnon sarebbe cambiato qualcosa Però comunque almeno non prendevo 2 e mezzo Isai 5, Cardrop 6 e mezzo, Nuitink ha fatto assist 7 Bayrami 6, Pereira gol e ammunizione 9 Luisa Alberto mamma mia veramente scandaloso 5, Barak su Diretta.it ha detto che ha fatto assist all'ultimo gol del Verona Sul 4 a 0, 6 e mezzo qui non gli dà assist, vabbè 5 e mezzo Brecalo, 6 Nico Gonzalez, Sabran che ha preso 6 pali fino a questo momento E traverse, non fa gol però prende 7 Come se mi servisse qualcosa il 7, non mi serve veramente a niente Però questo è Quindi anche questa giornata arriva una sconfitta pesante Classifica che piange Un Pau Benals che è al settimo posto 5 punti in 5 partite media da salvezza E un obiettivo che evidentemente va ridimensionato Arrivare tra le prime 5 può essere l'obiettivo? Non lo so, però comunque È veramente complicata recuperare così Perché a me non gira niente La prossima affronto il secondo Che ha uno squadrone Che è candidato alla vittoria finale Quello che ha fatto più punti tra l'altro Per farvi capire, 13 gol ha fatto 13 gol Che poi ne ha subiti anche pochi Perché vedete i primi Ma poi vedete un po' il discorso Cioè tutto va Il fantacalcio va molto oltre che Cioè deve esserci anche programmazione Saperciare i giocatori e tutto Va molto anche a Nella giornata Quanto fanno bene gli avversari Vedete i primi 3 sono quelli che hanno preso meno gol Sono quelli che hanno preso meno gol Quelli che hanno avuto più culo Che gli avversari hanno fatto sempre schifo Chissà perché sono primi Invece io Sono a metà classifica Perché comunque è andato È andato comunque così Ripeto Male sta andando È difficile però Adesso ci sono 10 giorni di pausa Così i miei calciatori possono riposarsi Invece no Vabbè comunque sto scherzando Adesso speriamo di far bene La prossima è ricomplicata però Mi sa che qui ci vuole una bella ridimensione dell'obiettivo Un quinto posto tranquillo Si può puntare Vediamo un po' A questo punto io mi fermo Ci vedo ancora un prossimo video Ciao ragazzi